Siamo qui con il nostro amico fotografo Eugenio Livolsi che ha ottenuto un importantissimo premio ad Orvieto in ambito internazionale. Eugenio, l'importanza di questo premio? Il FIOF è un'associazione fondata nel 2004 da fotografi professionisti con l'intento di aver creato una vera realtà sulla partecipazione della fotografia imperneata in tutta Italia e a livello internazionale. Praticamente è un continuo assiduo per noi fotografi a spronarci, a confrontarci con tutti noi. Quindi è stato e sarà un grande evento anche a livello professionale. Sono state ben sette le categorie a cui i vari fotografi hanno partecipato. Ritratto, matrimonio, reportage, ricerca, storia e nudo artistico. Eugenio ha vinto nella categoria matrimonio. Quanti fotografi hanno partecipato? Sulla categoria matrimonio eravamo 514. Questo premio innanzitutto è nato da un semplice invio di fotografie. Ho inviato solo quattro immagini inerenti alla categoria matrimonio. Ho avuto questo gran merito di aver premiato due di queste foto. Sono stati due bronzi. Parteciperai anche ad altri concorsi? Il prossimo anno riparteciperai? Opero nel settore da molti anni, dal 1990, essendo un figlio d'arte, quindi ho vissuto sempre di pane fotografia. Praticamente io sono nato nella fotografia, sono stato immerso nella fotografia perché essendo appunto un figlio d'arte ho cominciato da zero, da come praticamente si struttura la fotografia. Noi siamo partiti con il bianco e nero puro, praticamente eravamo dei piccoli chimici perché si dovevano mescolare il sviluppo fissaggio sbianca. Quindi si partiva da zero per poi creare l'immagine. E tutto questo percorso l'ho voluto fare sempre in sordina perché praticamente il mio non è stato mai un a quello che so fare, ma le immagini delle mie metrine parlano da sé, quindi non ho mai voluto essere prevaricare o denigrare qualsiasi cosa. Il mio intento è oggi farmi conoscere perché oggi è importante farsi conoscere e sempre restando nell'umiltà. Non mai sopravvaricare l'arte perché l'arte nasce da dentro, non si inventa. Ringraziamo Eugenio Rivolsi per questa intervista che ci ha rilasciato. Gli auguriamo di ottenere ulteriori premi e di farsi conoscere a livello anche internazionale. Ricordiamo che questa è una giuria internazionale che lo ha giudicato quindi a livello europeo e mondiale ha ricevuto questo premio importantissimo. Grazie Eugenio. Grazie a voi.